1. Il mio libro è il tuo. 2. Le mie penne a sfera e le sue. 3. Il mio cuscino è il suo. 4. La sua gonna è la mia. 5. La sua bici è la tua. 6. Il mio computer è il tuo. 7. Le loro bici è le nostre. 8. La sua lettera è la sua. 9. Il mio disegno è il tuo. 10. Il tuo cellulare è il mio. 10. Il tuo cellulare è il mio. 13. Il suo cellulare è il suo. 10. Il mio disegno è il mio. 12. Il mio disegno è il tuo cellulare è il tuo cellulare. 6. La sua bici è la sua.